Demetos Demir ha promesso che non lo farà più. Demetos Demir, che è arrivata sugli schermi con la serie tv, My Home My Destini, è anche all'ordine del giorno con i suoi post sui social media. La giovane attrice continua i suoi post umoristici che fanno ridere i suoi follower. Infine, l'attrice, che domenica doveva lavorare, la fece ridere con i suoi rimproveri. È nel marchio dei suoi fan come un nome che utilizza i social media in modo efficace. L'attrice, che ha reso felici i suoi follower con i video dietro le quinte e le foto dal set, oggi non ha infranto la regola. Dopo la partenza di Ibrahim Celicol, anche l'attrice, che ha pubblicato una sua foto con Angie Nosturk, con cui ha condiviso il ruolo principale nella serie, ha mostrato la sua apparizione sul set. L'attrice, in posa con un operatore di scena in sottofondo, ha aggiunto la nota, la voce è il suo lavoro. Ha anche detto, non guardarmi, mi sono svegliata troppo presto. Un video girato da Demetos Demir mentre aspettava il suo palco sul set ha rivelato la situazione. L'attrice stava vivendo lo stress di andare a letto tardi il sabato sera e svegliarsi presto la domenica mattina. Demetos Demir, che ha preso leggermente la situazione, si era ammaricato di non aver dormito dopo le 12 di notte con un filtro lacrimoso. Anche l'attrice, che l'ha fatta ridere con le sue parole, ha fatto una promessa a se stessa. Ha promesso che sarebbe andata a dormire la prossima volta che si sarebbe addormentata. Il video, che si è rotto sui social, è stato attratto anche dai suoi fan. Le parole di Demetos Demir nel suo video umoristico pieno di rimpianto di averla lasciata insonne sono le seguenti. Prometto a me stesso. Non vivrò o vivrò tutti i minuti in cui mi sono seduto perché non ho sonno dopo le 12 di notte. Dormirò direttamente. Ho un set domattina. Virgolette.